Chiappettù, è pronta la merendina? Guarda qua, ti sto preparando sti spaghetti alla pecorina Bella la chiappettuna Bella la chiappettuna Fammi mangiare Tieni, tieni Ti piace? Sono forte in casino E che? Chi è? Oh, sta arrivando una macchina grigia Chi è? Una macchina grigia? Sì Allora il Sor Conte Fammi vedeva Oh, come bella lucida Porca puttana il Conte